Mi si è staccato un pezzo di macchina. Ora vi racconto tutto dopo la sigla. Cari amici teslari, eh sì, mi si è staccato un pezzo di macchina. Eccolo qua. Adesso cerchiamo di capire, vi spiego un po' cosa è successo. Ieri, domenica, io ero fuori, c'è stato, ero per fortuna vicino a casa, diluvio universale, tempo di arrivare a casa, ovviamente qualche pozzanghera, veramente ne ha fatta tanta, e arrivo in garage e mi accorgo che da sotto la macchina c'è un rumore al che parcheggio e guardo sotto e c'era un pezzo penzolante. Quindi, insomma, cerco di capire cos'è. Allora, tra ruota e ruota c'è la batteria. E la batteria è coperta da uno strato protettivo che, per Model S e Model X era in titanio, credo lo sia anche per Model 3 e Model Y, comunque è uno strato di protezione, di protezione, comunque metallico, della batteria. Oltre questo strato di protezione della batteria, quindi davanti e dietro, c'è una semplice protezione per evitare sassi, sporco, insomma detriti vari, che effettivamente non ha senso che sia particolarmente rigida, ma, ripeto, è solo una copertura, così, proprio per evitare piccole schegge e cose del genere. Ecco, nel nostro caso è una copertura in un simil cartone tessuto, non saprei neanche come definirlo. Se provate proprio a mettere la mano, proprio all'interno delle ruote, potete toccarlo, sembra un tessuto cartonato, non lo so, una roba del genere. Che cosa è successo? È successo che questa parte si è bagnata in maniera particolarmente copiosa e sotto il peso dell'acqua, sotto il peso di se stesso proprio bagnato, ha ceduto e proprio si è piegato verso il basso, rompendosi proprio in questa parte qui che vi faccio vedere. Quindi è rimasto lì penzolante, al che ovviamente io per usare la macchina l'ho staccato e niente, ho fatto le foto che vi faccio vedere e ho aperto il ticket con l'assistenza di Firenze. Tra l'altro velocissimi, perché l'ho aperto domenica sera, oggi per ora di pranzo, che lunedì mi hanno risposto, con il preventivo. Io pensavo che, sinceramente, una roba del genere passasse in garanzia. Perché effettivamente io non ho preso botte, non ho fatto niente. È il materiale che ha ceduto sotto l'acqua. E effettivamente 200 euro per la riparazione. Ho appuntamento il 4 di ottobre, quindi una settimana mi sembra un tempo più che congruo per un intervento. Io abito in zona Livorno, quindi un'ora da Firenze, ma ovviamente comprando una Tesla ero perfettamente a conoscenza che il service più vicino sarebbe stato quello di Firenze. Tra l'altro precedentemente c'era solo quello di Milano, quindi parliamo di tre ore. Quindi la situazione è migliorata, direi decisamente. Io ovviamente nei messaggi col service gli ho detto ma scusate, semplicemente si è bagnato e ha ceduto. Io cosa ci posso fare? Non ho danneggiato io. E mi hanno risposto che comunque è stato un agente esterno a rompere la parte, quindi non è coperto da garanzia. Cosa vi devo dire? Certamente cercherò ancora di capire se può passare in garanzia quando andrò, comunque la faccio riparare perché non è che posso andare in giro con un buco sotto la macchina. Il prezzo devo dire che in realtà è estremamente onesto secondo me perché mi pare costi 160 euro proprio tutta la copertura inferiore e una quarantina di euro di lavoro, quindi secondo me è un prezzo onesto del service e tra l'altro mi hanno anche aggiunto nel preventivo, ovviamente questo in garanzia come richiamo, una guarnizione del bagagliaio, diciamo una sorta di richiamo non urgente quindi andando al service mi fanno anche questo servizio. Comunque vi terrò aggiornati, state attenti a prendere il pozzanghera a questo punto non so cosa dirvi, sapete che questa è la mia quinta Tesla, non mi è mai successo prima effettivamente ha fatto veramente tanta tanta acqua e personalmente rimango un po' basito per ora sul trattamento perché è veloce, fantastico, sta andando tutto bene però mi aspettavo che passasse in garanzia, una cosa del genere perché magari è il materiale che non è adatto, non lo so vediamo, comunque vi tengo aggiornati, questo è quanto fatemi sapere se anche voi avete avuto problemi di questo tipo come li avete risolti e cosa ne pensate questo è tutto, vi ringrazio come sempre e alla prossima, ciao grazie a tutti Grazie a tutti.